buonasera buonasera bentrovati questa sera parliamo di insomma del tema di fatto di tutta la rassegna che è quello della faglia tra oriente e occidente ma lo facciamo attraverso le riflessioni che porteranno i relatori di questa sera intorno al tema di un confine tra est e ovest all'interno dell'Europa e questo è anche il titolo est ovest il confine dentro l'Europa del libro di Egidio Ivetic che è qui con noi questa sera storico insegna all'università di Padova e ha scritto appunto questo libro che cerca di individuare le dinamiche di analizzare le dinamiche storiche soprattutto della divisione tra est e ovest all'interno all'interno dell'orizzonte europeo parleremo questa sera ci confronteremo con Giovanni Savino che è uno storico esperto di Russia che insegna all'università di Napoli e partirei con una domanda con una riflessione iniziale proprio per il professor Ivetic che ha a che fare con uno dei temi ricorrenti anche nel libro che è quello di quelle aree nel contesto europeo che si trovano a metà che si trovano attraversate per così dire proprio da una linea di faglia che separa est e ovest ci sono alcune alcune zone in particolare vengono citati i Balcani da un lato e l'Ucraina dall'altro quindi diciamo una prima un primo punto di avvio poteva essere per l'appunto questo cioè perché effettivamente passa qui questo questo confine e in che modo l'Ucraina da un lato e i Balcani l'ex Jugoslavia dall'altro ci dicono qualcosa anche oggi o ci hanno detto qualcosa negli ultimi decenni di dinamiche molto più risalenti no nel tempo prego sì grazie buonasera sono molto contento di essere qui ringrazio molto ho scritto questo libro un po sull'onda anche del conflitto che è scoppiato l'anno scorso io sono uno storico non sono un analista politico né geopolitico quindi è un ragionamento prettamente storico lo sappiamo tutti c'è l'unione europea e c'era un rapporto con la russia anche di interdipendenza da una parte la manifattura dall'altra parte le risorse energetiche tutto questo è sfumato nell'ultimo decennio si è arrivato a una guerra e questa guerra ha riaperto il tema di quello che io chiamo un confine dentro l'Europa ma in verità è emersa un'area di di faglia cioè dove come due placche geologiche si si incontrano da un lato c'è una l'Europa occidentale dall'altro c'è l'Europa orientale noi sappiamo che c'era l'Europa orientale quella della guerra fredda ma era il risultato della seconda guerra mondiale è anche confermata da una partizione ideologica del continente in verità sotto c'è un'altra divisione che negli anni 90 si parlava di divisione del mondo secondo le le civiltà e quindi l'Europa era vista da un lato questa parte occidentale dall'altro l'orientale la parte occidentale corrisponde nasce in teoria con la stessa Europa con Carlo Magno col sacro romano impero quindi stiamo parlando di più di mille anni che sempre verso la parte orientale cerca di definire i propri confini è una dinamica plurisecolare se non milenaria l'Europa a forma triangolare da un lato all'atlantico quindi che era la fine del mondo e poi c'è la storia moderna che è atlantica e globale e l'Europa domina il mondo l'altro lato è fatto dal Mediterraneo che è diviso tra mondo islamico e cristianità dall'alto medioevo e poi c'è questa parte continentale dove la cristianità latina che possiamo tradurre in termini odierni occidente perché poi l'occidente ha una sua narrazione ha un suo canone storico occidentale che individua nella Grecia nella Romanità poi nel medioevo cristiano latino il proprio asse di sviluppo questa cristianità occidentale latina pone il proprio confine dentro uno spazio europeo l'Europa come la concepiamo noi è una concezione del settecento illuministica secolare geografica prima c'era l'idea di cristianità quindi noi abbiamo questa confusione perché noi vediamo fino agli Urali l'Europa e poi c'è una faglia interna questa faglia in verità è ciò che rimane dell'area fin dove arriva la latinità all'occidente quindi il regno di Polonia regno d'Ungheria oltre il regno di Polonia attraverso i secoli c'era un mondo prima c'erano i tartari i mongoli i russi e nei Balcani c'erano gli ottomani i turchi e quindi era una non Europa e la Russia si è integrata tramite Pietro il Grande Caterina la Grande nel settecento sappiamo bene San Pietroburgo è una delle città più europee che ci possono essere proprio è un prodotto della razionalità europea tra cui architetti italiani la Russia diventa Russia perché si europeizza nel settecento e entra dentro questo spazio europeo però come un suo est simile ma diverso invece i Balcani fanno fatica a entrare nell'Europa entrano molto tardi i Balcani erano chiamati vicino oriente fino al 1912 fino alle guerre balcaniche e solo allora praticamente entrano e mai del tutto come qualcosa di esotico pensiamo all'Oriente Express il libro e il film e sono anche aree che corrispondono alla tradizione cristiana bizantina diritto bizantino questo rimane ora tutto questo doveva in qualche modo essere con noi come una specie di declinazione di sfumatura culturale invece con l'anno scorso con questo conflitto che c'è in Ucraina queste storie che sono parte della storia sono diventate come delle narrazioni con dei significati anche identitari cioè quindi è una è Europa ma non è occidente perché il Giappone è occidente e quindi Vladivostok è Asia ma di fatto è una città europea se la vediamo che sta di fronte al Giappone che è Asia ma è occidente ma la Russia non è occidente ecco questo è questo è scoppiato diciamo dall'anno scorso Giovanni Savino diciamo che appunto tu ti occupi studi la Russia e anche nel libro lo si lo si lo si fa notare quando si pensa no al rapporto tra Europa occidentale e Europa orientale è un po' come si pensasse si pensasse sempre il rapporto con la Russia che è il grande no il grande vicino prima parlavamo di un elemento che può essere interessante cioè al di là della divisione no della demarcazione che ovviamente non è solo geografica quanto c'è stato anche nel nostro dibattito penso a un certo periodo no adesso chiaramente le cose sono cambiate ma un certo periodo nel quale il dibattito europeo risentiva molto di come dire un po' una visione legata all'idea che l'Europa fosse moralmente decadente e che invece leadership leadership forti come quella di Putin rappresentavano una sorta di difesa di certi valori tradizionali che l'Europa non aveva più no il coraggio di difendere questo è un tipo di narrazione che c'è stato in Europa nel mondo della destra fino dire all'invasione dell'Ucraina poi le cose sono un po' cambiate ecco volevo chiederti se ci ricostruisci un po' questa dinamica quindi questo conflitto anche interno al dibattito europeo che forse oggi non vive più no con lo stesso con lo stesso canone ma anche in Russia si parla come di valori tradizionali decadenza occidentale innanzitutto grazie per l'invito perché da lettore accanito finire al circolo dei lettori è sempre una bella cosa ma in realtà la contrapposizione di questo tipo idee di questo tipo oggi c'è una categoria che è stata sviluppata da un giornalista italiano Mattia Salvia dei cosplayer che è interessante perché un po' ricorda quello che noi vediamo no nei vari festival dei fumetti in cui c'è gente che si veste da eroe dei fumetti dei cartoni animati e così via quindi quando noi parliamo dei valori tradizionali in Russia dobbiamo tenere ben presente questa cosa perché un conto è come viene sottolineato giustamente nel libro di cui stiamo parlando quella che è la tradizione slavofila che punta a recuperare quella che era la Russia prima di diventare Russia quindi la Moscovia quindi le tradizioni prima dell'occidentalizzazione forzata imposta da Pietro il Grande è quello che avviene oggi perché vedete noi ci troviamo in una situazione un po' strana quando nel 99 Putin diventa prima premier e poi presidente facente funzioni poi viene eletto un anno dopo viene visto come l'occidentalizzatore c'è un detto in russo che il governo è l'unico europeo del paese e che viene sempre ripetuto e anche oggi attenzione anche in questo momento qui storico viene detto come possibile baluardo da quello che può essere definito l'ignoto poi ignoto non è poi di questo non è però un discorso antioccidentale vi è è basato più che su un antioccidentalismo totale di rifiuto della proposta di porsi come altra Europa come recupero di quelle che sono le vecchie tradizioni europee di quelli che sono i vecchi valori familiari il cortocircuito avviene quando poi si va a guardare quella che è la realtà sociale della Russia che è il paese che al mondo ha il più alto numero di divorzi in cui vi è da ormai decenni una forte secolarizzazione della società nonostante il risveglio religioso degli anni 90 però in proporzione e viene evidenziato anche nel libro sono molti di più i fedeli in Ucraina che in Russia il senso religioso è molto più forte in quelle terre che a Mosca o a Pietroburgo e quindi questo stona un po' stona un po' parlare di famiglia quando ormai si arriva alla terza quarta generazione di famiglie mononucleari in cui spesso c'è la mamma molto più raramente il papà con un figlio a carico in più vi è sempre il problema di quando si parla di antioccidentalismo di cosa vogliamo parlare perché negli ultimi mesi noi abbiamo visto tanto parlare dello scontro di civiltà come qualcosa di inevitabile come qualcosa insito nella genesi della Russia e dell'Europa però se è vero che esiste la linea di faia facciamo molta attenzione perché è sempre un crinale molto pericoloso che può portare a una forma di orientalizzazione dell'altro di esclusione dell'altro da un certo punto di vista per cui il paradosso è vero Vladivostok è una città europea ma si trova in Asia il Giappone è asiatico ma viene considerato occidentale Mosca è una delle città probabilmente in Europa più moderne con accesso ai servizi al wifi a tutta una serie di cose particolari però la consideriamo la consideriamo Asia e tra l'altro questo è interessante perché alimenta all'interno della Russia anche chi comincia a guardare ad oriente comincia a guardare a quelle che sono le capacità di modernizzazione di quei regimi autoritari che vi sono nell'estremo oriente e non tanto la Cina Singapore gli Emirati Arabi e così via che tra l'altro oggi in questa battaglia che viene definita diciamo attenzione gli Emirati Arabi e Singapore Hong Kong e altri posti non è che siano poi tanto schierati con l'Occidente fanno un po' da porta da quelle che i fratelli Strugazzi chiamavano stalker cioè portano da una parte all'altra e non solo soldi e petrolio Torno da Egidio Ivetic perché insomma il titolo del libro anche nel nostro incontro contiene un concetto che è quello del confine è un confine all'interno dell'Europa quindi in questo senso l'incontro di questa sera più che di rapporto di rapporto in assoluto tra l'Occidente si concentra e ragiona di Europa occidentale e Europa orientale però quello che mi incuriosiva era un po' la fluidità del concetto di confine perché da un lato noi pensiamo il confine lo pensiamo come qualcosa di rigido per definizione il confine demarca due mondi due spazi e però il confine non è sempre lo stesso non è tracciato sempre sullo stesso punto nel libro all'inizio ci sono un paio di mappe che fanno anche vedere come ci siano diversi modi tutto sommato di concepire la traiettoria di questo confine allora quello che volevo chiedere a Egidio Ivetic è se il confine è cambiato nel corso della storia è certamente la risposta è sì allora quando è cambiato quali sono stati i principali momenti in cui questa linea di faglia si è spostata tra est e ovest sì allora noi abbiamo dimenticato il confine tra est e ovest abbiamo dimenticato la parte centrale l'Europa centrale che è sparita perché si è suicidata insomma gli imperi centrali hanno provocato la prima guerra mondiale e sono tornati con i nazisti per una seconda volta quindi pensate al dramma di Vienna mi viene in mente cioè che ancora nel primo semestre del 14 uno standard di vita tra i più promettenti al mondo per poi dopo entrare in un tunnel depressivo una sconfitta dietro l'altra e Vienna è uscita fuori solo negli anni 80 dopo 70 anni 60 70 anni quindi perché ha pagato il conto di che cosa occidente e oriente non si sono toccati se non per motivi della seconda guerra mondiale ed è ormai un occidente atlantico quindi nel 45 poi la Nato 49 patto di Varsavia e cose che sappiamo prima c'era l'Europa centrale chiamata Mitteleuropa proprio dall'ambito che era la Germania perseguiva un Sonderweg un proprio percorso e l'imperatore della Germania diceva ma ci tocca fare sul fronte occidentale abbiamo a che fare con questi occidentali che non ci capiscono ma anche l'Italia fascista si metteva un po' né qua né là quindi c'era un'area mediana che tanto per dire come si complica la questione del confine c'era anche una parte mediana che cambiva a controllare il continente e la pace di Brest-Litovsk cioè quando l'Unione Sovietica nascente arriva a un patto con la Germania di fatto dà una linea molto più a est ma anche rispetto alla situazione attuale ma quella potrebbe essere un'altra linea di faglia fin dove arrivano le ambizioni della Germania la linea lo spazio tedesco invocato negli anni 30 fin dove arriva non quello nazista anche da parte degli storici tedeschi e la linea Odessa riga a riga c'erano i tedeschi non solo i lettoni e quindi i confini ovviamente cambiano ci sono alcuni confini più duri sono quelli per esempio segnati dall'esperienza ottomana cos'è stata la Jugoslavia in qualche modo erede dell'Austria e Ungheria con questa ambizione fuori cioè irreale di riuscire a creare uno stato oltre il confine di civiltà poi nel 91 la rottura è stata esattamente lungo la linea di confine segnato tra l'Austria e Venezia nel 1718 i confini attuali della zona Schengen delegati alla Croazia per bloccare gli immigrati sono i confini tracciati nel 1699 e nel 1718 dopo il lungo dopo la riconquista diciamo asburgica dell'Ungheria e quindi sì altro che se pesano tra la Slovenia e la Croazia c'è un confine che risale all'843 il confine del Sacro Romano Impero gli sloveni si considerano una specie di austriaci i croati no non c'entra nulla dalla prospettiva italiana sembrano tutti slavi in verità ci sono delle sfumature questi sono Sacro Romano Impero i croati erano con gli ungheresi ma erano il limes della cristianità e poi subito pochi chilometri in là abbiamo le propaggini a Bihach dove sono tutti musulmani tutt'oggi dove ci sono un grosso concentramento di migranti che vogliono entrare in Unione Europea e ci sono forti investimenti dell'Arabia Saudita del Qatar proprio in quella zona della Bosnia e Herzegovina quindi si ripropone una situazione da inizio del Settecento cosa possiamo dire come storico posso solo ricordare che c'è stato anche una situazione precedente è incredibile proprio come storico cioè io rimango impressionato dalla persistenza di certi confini chi l'avrebbe detto negli anni settanta ottanta ci sembrava un altro mondo c'erano dei confini fondamentalmente ideologici quindi invece sono tornati dei confini per me il mondo moderno del Cinquecento pre mondo contemporaneo e nuovamente gli investimenti in Bosnia e Herzegovina da parte della Turchia di Erdogan la Turchia ragiona in termini di neo-ottomanismo nell'incontro con gli storici turchi ancora nei primi anni 2000 parlavano esplicitamente in questi termini sembrava una una butad oggi la Turchia si propone come una media potenza globale che ha tutta una sua politica nei Balcani sappiamo bene in Libia e tutta una politica in Asia perché si trova nella posizione in cui si trova e quindi o subisce le pressioni da fuori o propone una propria strategia come sta facendo questo ovviamente crea sì che nei Balcani le faglie antiche rimangono sempre vive da un lato c'è l'Unione Europea dall'altro ci sono questi sei paesi in intesa di entrare dove c'è la Cina c'è la Russia solo su un piano retorico in modo molto più concreto il Qatar l'Arabia Saudita e la Turchia con investimenti in Montenegro in Serbia e in Bosnia e Herzegovina e quindi la faglia è tornata la faglia letteralmente come quelle sismiche che sono tranquille però a un certo punto c'è il terremoto Giovanni Savino tornando sulla sulla Russia c'è una curiosità che che può essere forse interessante esplorare perché effettivamente insomma si è ricordato anche nel libro c'è un passaggio su questo si è ricordato molto che anche nella giustificazione della invasione russa dell'anno scorso c'è di fatto una sorta di rivendicazione storica e una parte del discorso della narrazione putiniana si alimenta proprio di rivendicazioni storiche cosa possiamo dire su questo cioè al di là degli elementi più tangibili strategici e geopolitici che spesso vengono analizzati nel dibattito pubblico ci sono delle effettive rivendicazioni storiche che quindi in un certo senso ricalcano i temi di questo libro nel come la Russia guarda ai suoi vicini e quali sono allora Putin attua delle rivendicazioni che in questo contesto ricalcano quelle che erano state le rivendicazioni dei nazionalisti russi all'inizio del novecento e di quella che era stata anche la tradizione conservatrice russa dell'ottocento che vedeva l'esistenza di una nazione russa unita in tre composta da tre rami il russo sarebbe trinitario suona brutto quindi chiamiamola così composta da grandi russi i russi malarossi piccoli russi ovvero gli ucraini i bilorussi e questa nazione sarebbe stata unita dalla stessa lingua dalla stessa tradizione storica e dalla stessa religione attenzione non è un excursus soltanto storico perché Putin parla di scrive questo articolo il 12 luglio del 2021 sull'unità storica dei russi e degli ucraini cosa interessante nonostante tutto l'articolo punti a testimoniare questa unità l'articolo viene tradotto anche in ucraino appare in russo e appare anche in ucraino quindi fa capire come forse in realtà quel tipo di identità si era già comunque consolidato e ecco quando noi parliamo della crisi ucraina probabilmente dovremmo tener conto anche di una categoria che forse sembrava consegnata al passato quella di redentismo perché se andiamo a leggere alcune delle posizioni ufficiali l'idea è quella di recuperare le terre redente che sono andate a Kiev secondo la narrazione proposta nel corso di una serie di avvenimenti storici prima i regali cosiddetti degli zar poi la costituzione dell'ucraina attribuita da Putin a Lenin nei primi anni dell'unione sovietica in realtà il discorso è molto più complesso e il libro lo mette in evidenza perché vi sono stati altri movimenti che hanno proclamato stati un po' effimeri che però comunque esistevano e poi fino alla cessione della Crimea da parte di Khrushchev nel 1953 per festeggiare i 300 anni del trattato di Pereyaslav fra i Kosakhi di Zaporozh e lo zar Alexei ecco quindi vi è un problema da questo punto di vista problema che viene anche visto come tale da altri vicini della Russia quando si parla delle terre storicamente rosse e questo abbiamo e su questo abbiamo una serie di controprove la mosca salta al naso anche all'elite kazaka perché una parte del kazakistan la parte nord orientale il semirice è una parte che storicamente vede una maggioranza russofona tant'è che nel 2001 Eduard Limonov diventato famosissimo in Italia grazie al libro di Emanuele Carrer viene arrestato con l'accusa di aver provato a fomentare una rivolta lì e questo spiega perché Kazim Tokayev il presidente attuale del kazakistan compie una serie di scelte simboliche l'ultima qualche settimana fa Tokayev ha studiato a Mosca è stato un elemento della media nomenclatura sovietica perché ha lavorato al ministero degli affari esteri sovietico è stato in Cina così via però nell'incontro ufficiale con Putin Tokayev parla in kazako è bella vedere la reazione in sala non soltanto dei russi e di Putin ma anche degli stessi kazakhi ma come il kazakistan è di fatto uno stato bilingue parlano tutti in russo anche perché non vi sono soltanto kazakhi e russi vi sono tedeschi del Volga portati lì durante le deportazioni staliniane vi sono ucraini insomma vi è un po' di gente e quindi questo fa capire come ogni tentativo di fare appello a questo tipo di storia ha comunque un'implicazione poi sulla politica di oggi e così via poi vi sono quelli che sono gli interessi immaginiamo un po' la Russia come se fosse a cerchi concentrici un po' come era il modello imperiale alla fine dell'ottocento in cui vi è la grande nazione russa composta da questi tre la Russia protettrice dei piccoli popoli cristiani e protettrice delle identità nazionali al proprio interno protettrice dei cristiani d'oriente quelli che erano sotto la sublime porta e protettrice degli slavi forse oggi in modo molto particolare molto diverso si prova un po' a portare avanti a recuperare questo tipo di idea e vediamo cosa succede come la verrà recuperata Egilio Ivetich un protagonista evidentemente di queste riflessioni se vogliamo il concetto stesso di occidente e di Europa occidentale prima si diceva che insomma l'identità per una certa fase della nostra storia era quella essenzialmente cristiana latina poi veniva citato l'ideale diciamo la concezione illuminista dell'Europa se ci chiedessimo e il libro prova a dare delle risposte se ci chiedessimo oggi quali sono i canoni dell'identità europeo-occidentale cioè che cosa rende oggi Europa occidentale e non orientale ci sono dei canoni riconosciuti c'è una crisi di alcuni di questi di questi canoni questo è il problema è il problema dentro l'Unione Europea cioè questo è il problema la prima cosa che possiamo dire anche in questo paese tutti possono dire quello che vogliamo è un paese democratico cioè qui ancora parliamo liberamente anch'io a lezione senza dover avere filtri come avviene in gran parte dei paesi esterni all'Europa quindi la democrazia c'è però l'Europa a questo l'Unione Europea è parte dell'Occidente cioè si è visto con questa guerra e così via ciò che si trova attorno all'Unione Europea non è più una specie di morbido neighborhood secondo la strategia dell'Unione Europea stabilita nel 2004 ci sono due neighbor could vuol dire vicinato uno è quello dell'est e l'altro è quello mediterraneo quello dell'est finché c'era questo accordo noi facciamo così e voi ci date le materie energetiche cioè la Russia e il blocco si vede perché adesso vediamo tutti che la Germania soffre c'è poco da essere qualcuno anche contento perché il PNR arriva dalla Germania quindi tutto un effetto catena che sentiremo purtroppo come vedete questa guerra sta andando alle lunghe e come nella guerra si entra non si sa come si finisce più si va avanti non so quanto noi riusciremo a reggere e questa è anche un'altra prova cosa è immerso da questo conflitto e quindi cioè non solo che noi siamo abbiamo le nostre tradizioni è emerso che tutto attorno non c'è più il neighborhood non c'è il vicinato ma ci sono delle altre esperienze delle cosiddette termine tecnico che si usa adesso è modernità alternative modernità quindi in Iran o in Egitto o in Arabia Saudita tutti vogliono avere l'endocrinologo il neurochirurgo la tecnologia poi ognuno ha le sue tradizioni che sono nel caso dell'Arabia Saudita o dell'Iran sono il diritto civile segnato dalla Sharia e quindi è una modernità alternativa ma ovviamente questo tipo di diritto civile facciamo fatica ovviamente in Europa abbiamo un'altra cosa ora cosa succede che sempre più e anche rispetto al libro perché le cose stanno evolvendo rapidamente nel giro di un anno rispetto a quando l'ho scritto il libro abbiamo sicuramente un dualismo occidente-oriente est-ovest dentro l'Europa perché questa guerra l'ha evidenziato portando alla militarizzazione della Finlandia eccetera eccetera però abbiamo sempre più una partizione una polarizzazione tra occidente e non occidente e l'ultimo conflitto che abbiamo tra Israele e Hamas ha evidenziato la reazione del non occidente nei confronti anche dell'occidente anche nei confronti di Israele è emersa una nuova polarizzazione la cosa si complica perché la Russia se non ci fosse stata la guerra avremmo avuto un'altra crisi medio orientale invece con la Russia che è diventato tra virgolette nemico abbiamo la Russia che è dentro questo non occidente che non è solo il sud globale ma è non occidente sono tutti questi paesi appunto ma anche il Singapore ma sono tutti paesi abbiamo di varie abbiamo una Nigeria abbiamo una abbiamo il Brasile i BRICS abbiamo il Sud Africa è chiaro ciò che è occidente e sono paesi democratici la Nuova Zelanda la la Corea del Sud l'Australia Canada Stati Uniti Unione Europea e Israele che vengono considerate e Giappone e Giappone ecco e questi sono e sono stati dove come dire si riconosce subito anche un certo livello di democrazia tutto il resto guardate il Sahel non c'è una nazione nigerina ci sono i Tuareg ormai è evidente che il modello Stato democrazia non è decolato non ha avuto modo perché la Francia ha controllato quei territori appena negli anni 20 e 30 nel 56 li ha mollati lasciando lo Stato e una democrazia cioè i nostri parametri non cioè gli altri non si riscontrano nei nostri parametri ma che cos'è l'Occidente sono i nostri parametri possiamo ripetere li conosciamo li studiamo durante l'educazione civica il problema è che in questa fase storica che si è aperta con l'anno scorso il resto del mondo non ci sta a quella retorica degli anni 90 che è finita la storia che ha vinto l'Occidente liberale e che tutto il mondo tramite globalizzazione prima o poi con percorsi lunghi o veloci sarebbe diventato un unico modello globale occidentale non è vero e non si tratta neanche più di polarizzazione e si tratta molto di cultura e c'è di mezzo molto la storia e si parla di civiltà perché la Turchia è nella Nato ma ormai sta andando per per la sua strada c'è una linea della commissione Brandt negli anni 80 che ha diviso il nord e il sud del mondo la Turchia è nella parte del sud ma ci rimane ormai non è una questione di pil anche la Cina ci rimane per una questione di nuova geografia e purtroppo anche questo ultimo conflitto in Israele al di là dell'anti-ebraismo e tutto questo che vediamo si è sentito credo che tutti l'hanno percepito un astio nei confronti dell'Occidente e poi subito c'è l'asse anche Russia Iran cose inedite e quindi la storia ha preso un andazzo veramente di nuovo tipo ecco non so dovremmo cioè farci un'analisi noi a partire dall'Unione Europea cosa vogliamo fare non vogliamo ancora litigare o vogliamo cercare di di stringerci a corte in questi ultimi dieci minuti che abbiamo circa sono benvenuti alle domande per cui se avete curiosità o domande direi che appunto questo è il momento in cui le raccogliamo e le proponiamo ai nostri ospiti ai nostri relatori intanto una riflessione ne parlamo anche un po' prima mentre vediamo se si alza qualche qualche mano e anche come dire la crescita nel dibattito occidentale di spinte tra virgolette anti-occidentaliste cioè la messa in discussione di tutta una serie di assetti strutturali di ciò che è l'Occidente modello economico ma anche pensiamo tutto l'elemento della decolonizzazione che è un po' la lente attraverso cui spesso viene letto anche il conflitto israelo-palestinese insomma è interessante vedere come anche all'interno delle opinioni pubbliche occidentali pensate a quello che accade negli Stati Uniti in settori del mondo progressista ma anche in Europa insomma ci sono delle messe in discussione dei tentativi di mettere in discussione un po' che cosa davvero ci rende occidentali che cosa ci rende diversi dal non occidente di qui sopra di qui sopra di qui sopra Grazie a tutti